Stanchezza? Cali di energia? Non riesci a tener testa allo stress? Qui ci vuole un integratore a base di magnesio. Metarelax è un integratore alimentare a base di glicerofosfato di magnesio, vitamine B attive e vitamina D e di pronta e facile biodisponibilità. Il magnesio è un minerale indispensabile in molti processi biochimici dell'organismo, tra cui la produzione di energia e la trasmissione degli impulsi nervosi. Il magnesio è naturalmente presente nel corpo e in alimenti come cioccolato, noci, fagioli bianchi, spinaci, carciofi e tonno. Tuttavia uno studio francese ha dimostrato che il 70% della popolazione non riesce a raggiungere l'apporto giornaliero raccomandato di magnesio. Risultato? Le batterie si scaricano. Ma è possibile ricaricarle con una vita sana, un'alimentazione corretta e anche con l'aiuto di integratori alimentari di magnesio. A questo proposito è importante considerare tre fattori. Il tipo di magnesio utilizzato, l'aggiunta di sostanze in grado di rafforzare l'attività del magnesio, la facilità di utilizzo. Metarelax contiene una forma specifica chiamata glicerofosfato di magnesio, di buona biodisponibilità e estremamente ben tollerata da stomaco e intestino, contrariamente a molte altre forme di magnesio che possono dar luogo a effetti lassativi. Le vitamine B attive contenute in Metarelax, come il Metafolin, potenziano l'attività del magnesio. Le forme attive hanno il vantaggio di non dover essere trasformate dal corpo e possono quindi essere assorbite in modo diretto e con la massima efficacia. Anche magnesio e vitamina D sono strettamente legati. Carenze di vitamina D sono spesso causa di carenze di magnesio e viceversa. La vitamina D presente in Metarelax consente di trattenere più a lungo il magnesio nell'organismo e, a sua volta, il magnesio contribuisce ad attivare la vitamina D. Metarelax si trova in compresse o in polvere da diluire in acqua. Ha un sapore gradevole e contiene un dolcificante naturale ricavato da una pianta, la stevia. Momenti di stress? Affrontali con Metarelax.